e quello che colpisce è che siamo alla metà del secolo XIX e il problema è sul tappeto ed è sul tappeto perché non è soltanto la realtà europea quella nella quale si sviluppa questo dramma è una realtà planetaria a questo punto credo che non sia inutile un ulteriore passo in avanti spero di non rubare troppo del vostro tempo e strumentalmente oserei dire mi richiamo ancora una volta ad un testo questa volta non i primi righi ma gli ultimi del manifesto che è un testo brillante un testo in un tedesco straordinario è uscito qualche mese fa un libro piuttosto divertente di Donald Sassoon notevole storico laburista intervista immaginaria a Marx piena di intelligenza dove Marx a un certo punto rivendica di aver saputo scrivere delle formule di effetto dirompente dice per esempio nessuno di questi scribacchini di Downing Street sarebbe capace di scrivere proletari di tutto il mondo unitevi non avete da perdere che le vostre catene e allora Sassoon che lo intervista in questo incontro immaginario dice ma forse lei non dottor Marx non si rende conto che oggi hanno molto da perdere quando lei scriveva 1800 ancora 15 anni dopo il manifesto i ferrovieri inglesi lavoravano circa 30 ore di fila e quindi gli incidenti ferroviari erano all'ordine del giorno e venivano chiamati disdette di Dio cioè il Padre Eterno ogni tanto provvede a un disastro ferroviario oggi è diverso quindi lei si rende conto che i proletari che lei invocava affinché si unissero spiegando loro che non avevano altro da perdere che le loro catene oggi hanno molto da perdere e lui dice sì è vero in questo dialogo c'è in realtà il paradosso del movimento socialista di cui rivendica di essere uno degli artefici è che quanto più le conquiste procedono dal punto di vista della condizione materiale tanto più l'impulso rivoluzionario si spegne quindi in certo senso il movimento che io ho creato depotenzia gli obiettivi che ho indicato dice il filosofo nell'aldilà intervistato però da un bravo storico laborista e questa riflessione di Sassun travestita da intervista impossibile tocca un punto vero ma tocca un punto che nell'intervista poi viene anche sviluppato e cioè se questa riflessione non sia ancora una volta rigorosamente eurocentrica per questo mi è parso giusto questo punto del mia piccola relazione evocare un altro momento nel quale la parola schiavitù è stata adoperata per indicare una situazione presente non un fatto storico 1915 ridosso potremmo dire della conferenza di Zimmerwald fallita tentativo della seconda internazionale di fermare la guerra divisione tra i vari partiti socialisti sappiamo questa storia tragica a ridosso di Zimmerwald Lenin pubblica un opuscolo che si chiama il socialismo e la guerra un opuscolo molto schematico molto netto dice Marx al professor Sassun in quella intervista Lenin era molto capace politicamente un fondamentalista perché ha preso per bibbia tutto quello che io ho scritto e ha inventato il marxismo quindi molta ironia su questo ma questo fondamentalista però nel saggio intitolato il socialismo e la guerra 1915 coglie il punto centrale della guerra tremenda del 14 e cioè quella che definisce molto schematicamente la ripartizione attuale del mondo tra le grandi potenze e gli schiavi le grandi potenze si sono divisi il mondo schiavizzandolo e porta le cifre dal punto di vista dei milioni di abitanti quanti milioni di abitanti l'Inghilterra quanti milioni di abitanti tutti gli schiavi dell'Inghilterra cioè il resto del pianeta sotto controllo inglese sotto controllo francese sotto controllo tedesco e la guerra nasce di lì dal fatto che questi schiavisti stanno scannandosi per redistribuire la proprietà degli schiavi cioè del resto del mondo è chiaro che è un linguaggio estremamente crudo e semplificatorio ma l'ho citato perché viene in taglio nella riflessione alla quale ora vorrei accostarmi non dimentichiamo che lo abbiamo appena detto hanno parecchio da perdere effettivamente sì ho messo in fila perché mi è parso giusto schematizzare degli interventi che hanno una loro coerenza prima di questo intervento del 15 così netto e che credo colga uno degli aspetti fondamentali del conflitto da cui ha avuto inizio il novecento ma prima di esso c'è un saggio un breve articolo del 13 quindi quasi due anni prima intitolato il risveglio dell'Asia questo articolo Lenin scrive che il movimento del 1905 la rivoluzione del 5 si è estesa a tutta l'Asia la Turchia la Persia la Cina anche l'India si muovono perché c'è stato questo scossone del 5 e poi si concentra sull'isola di Java con un articolo molto interessante in cui descrive la composizione sociale di questa colonia olandese il ruolo dei cinesi il ruolo degli olandesi che abitano lì il ruolo della potenza coloniale e spera che da questa situazione concreta discenda un movimento ostile all'imperialismo olandese siamo nel 13 ma non può prevedere la guerra la guerra nel 15 la diagnostica in quel modo come ben sappiamo la delusione principale epocale del bolshevismo giunto al potere è stato che l'Europa occidentale non si è mossa questa è una storia che è stata raccontata tante volte quindi non è caso di ricordarla qui dopo la guerra russo-polacca del 20 il problema è chiuso la Germania ha preso un'altra strada eccetera e nel 20 al secondo congresso dell'internazionale Lenin fa un intervento lunghissimo vibrante il cui nocciolo il cui concetto principale è il nostro avversario è la aristocrazia operaia l'aristocrazia operaia è cointeressata alla conservazione del sistema sociale esistente nelle grandi e ricche potenze occidentali e sono i nostri antagonisti la guerra però ha portato nella storia i tre quarti dell'umanità li ha brutalmente gettati nella storia anche perché inglesi francesi soprattutto hanno preso i popoli coloniali li hanno trasformati in combattenti al loro servizio nella guerra che si è sviluppata e questo ha diffuso coscienza coscienza che inevitabilmente si estende ai paesi da cui questi provengono quindi è lì il nostro sguardo che deve rivolgersi le aristocrazie operaie sono il nostro nemico ma i popoli del mondo che sono schiavi sono i nostri alleati ed è un testo questo del luglio del 1920 ottimistico nel quale la prospettiva delineata io l'ho riassunta pedestremente ma non volevo infliggervi una lettura fatta partitamente la prospettiva delineata è considerata attuale attuabile al tempo stesso primi di settembre quindi poche settimane dopo si svolge a Baku una grande conferenza dei popoli dell'Asia promossa dall'internazionale presieduta da Zinoviev in cui affiora anche una formula che oggi può ci far abbrividire e cioè la guerra santa il jihad islamico tra i presenti gli islamici sono tantissimi nella conferenza di Baku è beninteso e quindi il linguaggio che adopera questo dirigente dell'internazionale è rivolto a far sorgere negli ascoltatori una connessione positiva tra l'internazionale che li sollecita e la loro cultura di partenza la guerra santa il jihad contro l'imperialismo conferenza di Baku non ha in sostanza nessun risultato pratico l'ultimo intervento al quale mi pareva giusto richiamarmi per commentare la battuta hanno molto da perdere gli operai dell'occidente da un'eventuale rivoluzione e in uno scritto del 23 in uno scritto del marzo del 23 quindi pochi mesi prima della morte di Lenin che ha un titolo molto significativo meglio meno ma meglio che è un titolo abbastanza riduttivo se vogliamo nel quale si dice siamo stati sconfitti non abbiamo sfondato l'occidente e siamo stati respinti da quella parte e allora la prospettiva è la Cina l'India perché aggirando l'imperialismo da quella parte riprendiamo il filo del nostro lavoro lui muore poco dopo ora il novecento è stato caratterizzato dal fenomeno al quale mi sono riferito e credo che queste brevi citazioni che ho voluto fare stiano a significare come in quella riflessione la tematica schiavitù come soggetto presente sia molto chiara il secolo ventesimo è stato caratterizzato da questa vicenda e segnato da due delusioni potremmo dire la prima è quella appunto di cui dà conto questa letteratura alla quale mi sono riferito l'altra è quella conseguente al fallimento della decolonizzazione in fondo la linea indicata in questi interventi soprattutto nell'ultimo a girare l'imperialismo sollevando gli schiavi del mondo è diventata e passa a diventare azione concreta con la fine degli imperi coloniali conseguente alla seconda guerra mondiale all'esito della seconda guerra mondiale con anime diverse con soggetti diversi anche ambigui anche complessi faccio solo un esempio nel 1955 un periodico importante nel dibattito culturale italiano che si chiamava rinascita pubblica un documento molto articolato e molto ben argomentato del partito comunista egiziano che denuncia il regime di Nasser come fascismo 1955 ed è un attacco frontale diciamo a quello che poi siamo soliti chiamare socialismo arabo ma Nasser non era del Baat ma era alleato di Qassem che era un leader del Baat iracheno ha stabilito la Repubblica Araba Unita inseguendo questo disegno è notevole che nel 1955 una riflessione affidata ad un settimanale ben sorvegliato dal suo direttore direttore di rinascita non lasciava pubblicare a casaccio articoli che non avessero il suo consenso si chiamava Palmiro Togliatti come tutti sappiamo ed è interessante che avallasse la direzione del settimanale una valutazione così dura e poco in linea con l'orizzonte che si stava sviluppando proprio in quei mesi il famoso spirito di Bandung per cui i non allineati avrebbero dovuto rappresentare il fronte antiimperialista perché fallita quella vicenda è fallita perché dall'altra parte c'è stata una straordinaria capacità di conquistare i ceti dirigenti dei paesi ex coloniali ripiombati in una situazione di dipendenza non più direttamente formalizzata dal rapporto madrepatria colonia ma da rapporti ben più forti ben più pervasivi che sono quelli che sono sotto i nostri occhi con l'esito imprevisto perché la storia si riserva sempre di avere esiti non prevedibili di conflitti spaventosi non più dominabili dagli stessi che hanno imbrigliato il mondo ex coloniale e in fondo quello che abbiamo sotto i nostri occhi è esattamente questo la esplosione in forme sempre meno razionali di mondi ai quali è stata via via preclusa abilmente una vera libertà dalla dipendenza dei grandi imperi con un ultimo elemento di contorno che dovrebbe non solo allarmarci ma indurci ad una seria autocritica e cioè il fatto che mentre la schiavitù vigoreggia nei mondi dipendenti per le ragioni che abbiamo sommariamente detto si affaccia anche nel nostro avamposti di dipendenza di tipo schiavile ci sono nel nostro ricchissimo occidente il ghetto di Rignano in Capitanata è un caso concreto di schiavitù stricto senso come mai etica filosofia dovrebbero contrapporsi ma finito l'esperimento socialista è entrato in crisi lo stato sociale che ne era il figlio in occidente il problema del profitto come architrave come santo graal si può affrontare e difendere ormai soprattutto attraverso le forme di dipendenza schiavistica il profitto è sacro lo stato sociale dà diritti che intaccano il profitto inevitabilmente specie in periodi di grave crisi come quella che da anni ci tormenta e allora la dipendenza di tipo schiavile dal Bangladesh alla Capitanata ad altre parti del mondo garantisce il profitto il che vuol dire che lungi dall'essere un relitto storico un fossile la schiavitù è la forma attuale di alimento del profitto capitalistico grazie grazie